Roma, cosciente della propria forza, deve difendere più il secondo posto o ha l'obbligo di attaccare alla venta? Noi lavoriamo ogni partita per questo campionato è lungo e solo pensiamo alla Roma e vincere come lo abbiamo fatto nell'ultima quattro partite. Lo più importante è pensare a noi e lavorare solo per noi. La Juve continua a vincere, ha ripreso a vincere, come si fa a raggiungerlo? Ha perso l'ultima partita, non oggi ma l'ultima ha perso. Per questo noi solo pensiamo alla Roma, a vincere e a fare il nostro lavoro. Enrico, sei diventato un uomo fondamentale per questa squadra. All'inizio stagione ti aspettavi un percorso del genere? No, io sapevo che veniva una grande squadra come la Roma e io sono molto contento di fare il mio lavoro e di continuare di questa maniera e solo pensare alla squadra, alla Roma e al vincere. Grazie. Grazie. Grazie.